My Night My Night Eccoci in compagnia del dottor Gido Lopana, dentista in Taranto, per una rubrica che fa crescere l'interesse dei nostri telespettatori e sicuramente fa crescere anche la mia capacità di districarmi in una materia, non dico nuova, ma dove in qualche modo cerco di arrivare ad una migliore preparazione così come dovrebbero fare un po' tutti i nostri telespettatori Siamo tutti cercati, tendiamo tutti a migliorarci nel nostro campo e negli altri campi Il buono Alberto Manzi disse che non è mai troppo tardi, noi ci siamo arrivati in qualche modo Allora Gido, affrontiamo questi argomenti che sono così importanti, ho subito una domanda da porti Quando scatta poi l'allarme che c'è qualcosa che non va e per cui bisognerà prima o poi immaginare un apparecchio? A volte i genitori stessi ci portano i bambini quando vedono però a volte la questione diventa più tecnica perché mentre il genitore va a guardare più che altro il dentino storto, quello fuori posizione noi in genere guardiamo più l'occlusione che è la cosa fondamentale per quanto riguarda l'ortodonzia cioè quella cosa per cui i bambini devono chiudere in maniera corretta Chiudere nel senso la masticazione? Articolare, articolare in maniera corretta, chiudere in maniera corretta la bocca Quindi non è soltanto importante chiudere bene la bocca per quanto riguarda la masticazione Non so, qualcuno mi diceva poi il cibo deve arrivare ben masticato nello stomaco e via discorrendo ma a volte sentivo parlare di cervicale, di problemi Insomma l'apparato dentale è una macchina anche abbastanza complessa che si scarica, che scarica tensioni su altre parti del corpo, giusto? Fondamentalmente, è vero, serve per poter avere i denti in posizione buona per poter triturare bene il cibo, gli alimenti però è anche vero che è fondamentale il corretto posizionamento dell'articolazione della mandibola Noi non dobbiamo vedere la bocca scollegata con tutto il resto dobbiamo vedere la bocca nel contesto dell'organismo per cui un buon funzionamento dell'articolazione temporo-mandibolare comporta un benessere da parte di tutto l'organismo un maggiore rilassamento muscolare che si ripercuote in tutte le attività quotidiane di una persona e che poi si porterà in maniera corretta negli anni, in quanto diventerà adulto Ecco, infatti, quindi risulta vero che magari chi soffre di cervicale può derivare addirittura dai denti? La maggior parte dei problemi cervicali deriva da una disfunzione dell'articolazione temporo-mandibolare Ma guarda un po' Quindi tutto questo invece fatto in età giusta quindi ritorniamo ai nostri nove anni se lo avessimo fatto magari ci avrebbe risparmiato qualche sofferenza da grande insomma? Sicuramente sì, ma il fine dell'ortodonzia è proprio quello non tanto addrizzare il dentino che è pure importante però dare una vita adulta a un bambino che sia quanto migliore possibile Certo, invece noi siamo fissati come genitori, come mamma e papà siamo fissati di aggiustare l'allineamento del dente insomma magari il dentino storto come dicevi Si vedono le cose macroscopiche, giustamente, del resto non è che si possa pretendere dobbiamo essere noi a erudire i genitori e spiegargli le problematiche del bambino Senti, Egidio, ti è mai capitato di fare un corso ai genitori? No Però sarebbe bella questa cosa Sarebbe divertente, estremamente divertente e anche sarebbe giusto perché il genitore è la prima persona che controlla il bambino che guarda in bocca in tenerità per cui è la persona più indicata più dal medico di famiglia o del pediatra di poter osservare, avere una prima infarinatura per poter poi anche portarlo al dentista in maniera più consapevole Esattamente, con maggiori cognizioni di causa E tra l'altro magari avviare anche una fase di preparazione rispetto alla figura del dentista che non è l'omone col camice che ti conficcherà qualche cric o grimaldello nella bocca A questo proposito, normalmente sono i genitori che fanno terrorizzare i bambini che sono per lo più, hanno loro avuti traumi infantili che poi, ecco perché, come ho detto prima i bambini cerchiamo di toccarli il meno possibile e solo quando è indispensabile Cioè, magari c'è il detto ricorrente non ti faccio venire il lupo, ti porto dal dentista Porto dal dentista Mentre abbiamo una bella fama Infatti, infatti Abbiamo più di qualche fama, vero? Visto, visto Allora, senti Giglio Allora, molto interessante questa Infatti, sapevo che saremmo entrati in un ciclo di battute di trasmissioni, di puntate, di argomenti soprattutto estremamente interessanti Questo dei bambini particolarmente Io lo approfondirei in una prossima puntata Quindi, per il momento, io saluterei i nostri telespettatori Facciamo una raccomandazione Insomma, la pillola di saggezza rivolta ai genitori Che cosa possiamo raccomandare? Direi di non essere apprensivi Quello che si può fare a sette anni Lo si può fare con maggiore tranquillità Anche a nove Non c'è fretta I ragazzi, una volta presi in cura Li portiamo avanti fino al cambio completo della dentizione Che avviene intorno ai 13 anni Per cui è inutile stressarli da troppo piccoli Avranno modo di... Si ha lo stesso il tempo di poterli correggere senza stressarli troppo Benissimo Allora, ti ringraziamo per queste pillole di saggezza Sono importantissime Sono sicuro che susciteranno l'attenzione dei nostri telespettatori Tra l'altro, dicevi giustamente in apertura Che c'è un'attenzione maggiore oggigiorno Rispetto a quello che era la figura del dentista nel passato Quindi i genitori sono molto più preparati E magari, ecco, io le chiamo pillole di saggezza Possono servire a chiarire degli scenari Che magari non lo sono troppo Giusto? Certo, certo, certo No, ma sono quelle piccole cose che ti aiutano Ad avere un giusto rapporto Anche con il dentista Benissimo Ma qui ce l'avete le macchinine per giocare No, veramente no Però ci possiamo attrezzare Perfetto Grazie Gide Lopane Alla prossima puntata Cresce l'interesse E grazie soprattutto alla tua competenza E rendici giustizia di queste poche Ma, come ti devo dire, incompetenze insomma No, ci mancherebbe altro Anzi, anzi, anzi Sei stato proprio bravo a spiegare un attimino Tutto Quasi professionale Mi hai dato dell'impreparato, ricordo Grazie, alla prossima Rimandato, solo rimandato, non impreparato Ok Mai night Mai night Grazie per la visione!